Tutti ragazzi, oggi così come altri giorni precedenti, siamo ancora su The Evil Within E siamo al capitolo 11, riunione di chi non si sa E comunque, ah giustamente stavamo nella censura Cercheremo di finire questa serie perché poi ne arriva un'altra Madonna, che cazzo, già iniziamo male Aia, 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 aia Che, che sta? Ah, cominciamo bene proprio L'acqua Riunione Mi chiedo come si faccia a fare poi il trofeo quello di finire il gioco in meno di Di cinque ore E se ne va in giro con la lanterna in mano Si va di là oppure? Checkpoint Di là non si va, ok Sebastian Castellanos Chi è? Sembra che il manicomio sia l'unico edificio di la stritta Come può essere? E quello sarebbe il manicomio Bisogna ritornare laggiù Il carosello Non abbiamo altra scelta, dobbiamo andare di là E quella panchina che rimane così ferma No, impossibile Anche l'autobus, là, il camion No Questo mi ricorda qualcosa Non si può salire? No, volevo andare a fare il carosello Sul cavallo volevo salire io Dove cade l'acqua? Dove cade l'acqua? Dal nulla L'acqua è sospesa in aria Guardate Fatto proprio male questo L'acqua che cade dal nulla A me sembra Eh, cos'è? Ok Sta, sta cadendo il palazzo Black Air Course Oh Film Marvel Che cazzo? Eh White Fog Ma queste sono Di film Devo andare di là Mamma mia Effetti speciali Effetti speciali E tutto quello Questo camion qua Che rimane così Vabbè No Non esageri Ti sei levato dalle paglie Da solo Scendi Oh no Cos'è sto posto? L'importante è che non Crollano qua dentro Qualche cosa Oh Colpi Questo non preannuncia Nulla di buono Jukebox Fiammiferi Oh Qual bastardo Con la macchina Vaffanculo Pezzo di cacca Non c'è niente Quale Punti cervellottici E happy new year Magnum Questo revolver Di grosso calibro Alla direzione Misura spara Proiettori perforanti Sembra Aver visto Giorni migliori Quindi Una nuova Tipo di pistola E vogliamo Provarlo Revolver Magnum Sei colpi La magnum È famosa Perché Ha un forte Impatto Su Quando spari C'è un rinculo Molto forte Per essere Una pistola Almeno Su altri giochi È così Un quadro Per terra Io sento Che cazzo È È crollato Il pavimento Meglio L'accendiamo Qualcosa Qua Eh 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 c'è Cos'è Cos'è Ma hai fatto Spaventare Non schiacciarmi Adesso No Ok Appena in tempo Ehi Manichini alla nuda Molto sensuali Cos'è Il computer Ma questo è Il mercato nero Cos'è Qua vendevano Delle cose In mezzo Alla strada Tra cui Anche computer Lavatrici Mele Mignotte Fiori Bidoni Della spezzatura No vabbè Quelli stavano Ecco Non si rompa Nemico Nelle vicinanze Vediamo Cosa E mo ti faccio E mo ti faccio male E mo ti faccio male Guarda Metto la pistola All'altra Giusto per colpirti In faccia No ti scipacco il culo Ti scipacco Vedete No E' morto con un colpo Ma non c'è un metodo Per andare di là No No Vabbè Allora Che stava fa Cambio Parma La pistola overpower Eccole La mangio Ricordo Sto facendo il gioco Senza potenziare le armi Voglio ricordare Quello si vede Chiaramente Che non è umano Eh Vabbè Vogliamo vedere Se lo prendiamo Al cicciorombolo No E dai No E muore con un colpo Vieni 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 In culo Fa madre Ora sei stramorto Fammi prendere la cacca Ecco La cacca Loro lasciano tanta cacca La cacca verde Ma dalla si può passare Qua è chiusa Ma sicuramente si può andare Ho visto che stava una cosa per terra Quale è uno zombicolo Aspetta Si può scendere qui Ti prende papà Alle spalline Alle spalline E ti ha fatto la bua Mentre tu facevi le porcate Con questa tutuzione qui Ehi White fog Nebbia bianca Oh no Questo è il motore In avarie Cos'è Punti cervellotici Come li chiamo io Non come li chiamo il gioco Gel verde Molto più bello Punti cervellotici Questo cos'è Una granata Qua si sale Per andare dove Ah qua Ecco Colpi di pistola Dalla pistola normale Dove sta? Pistola normale Vediamo Ci stanno qualche morto Non morto Che posso sparare? No nessuno Peccato Vabbè C'è una scala L'agio Beh Questo livello Mi piace Dai Nel senso che Non fa spaventare Oh però L'agio c'è una porta Ecco Speriamo che sia Questa Eh no E vai Che è? Che è? Hanno aperto la porta Ehi Che cazzo? Boom Aspetta Voglio fare Un gioco Con te Oh Maledetto Stronzo Ah così è Brullurido Bastardo Facciamo un combattimento Corpo a corpo Dai Mi manca lui E io lo colpisco E lo colpisco No Mi manca lui Io lo colpisco Lo colpisce due volte Tre volte Lo colpisce ancora Lo colpisce E muore il bastardo Ho vinto A dare le botte Sono più forti Io Mi dispiace Per te Beh c'è un altro bastardo Vediamo Cosa aveva un martellone Chi è che c'aveva il martellone Prima? Dove l'ha fatto cadere? Lo voglio io Voglio i martelloni Questo qua com'è morto? Non me lo ricordo L'importante è che ha aperto qua Avevo detto io che qua si doveva andare Questo è morto? Chiave Chi è? Chi è? Oh che cazzo Oh Chi è? Madonna Cosa? Un'imboscata No 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 Quel figlio di troia Col Bastardo Brucia Oh no 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 Oh Devo far fuori col bastardo Oh è che cazzo Allora Aspetta 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 Coglione E continuo a sparare Anche se non mi vede Mi è venuta un'idea Oh Ok voi Voi non l'avete visto ma Noo Ma pure quello con la tromba No eh Nooo Rovinano il video I figli di puttana Chi è? Ancora? Ma voi siete proprio la combricola dei rompicoglioni Sì Oh chi altro? No Schiva Fucile a pompone Guarda quello col culo Guardalo Come monellascio Porcone Emo si alzano gli amicitoni Il monellascio Guarda un po' cosa Aspetta Vediamo se non riesco a prendere Tre coglioni con un coglione No E dai No 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 Volevo Accendere il fuoco Feglio di puttana Con le chiappe al vento E manco uno ne ho preso Vaffanculo Dove cazzo va? Morti Tutti e tre Morti Mamma mia Non ci credevo Invece alla fine è stato così Ah ci abbiamo fuggito da cecchino E' vero Ma facciamo una bella cosa A quel bastardo là Che si diverte con la metragliatrice E rompi cazzo Proprio di merda Gli spacchiamo il culo Gli lo spacchiamo tutti Gli lo spacchiamo Così dobbiamo fare Prima cosa Dov'è il bastardo? Dov'è? 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 Non lo vedo Dov'è che sta? Sta là sopra Sta il figlio di puttana Madre Oh E cos'è? Uno SWAT? Cos'è? Che cazzo è? Oh Ti stai zitto Coglione No Ah Vedi vedi Ah ma ne lascio In culo ti devo prendere Demi che ti ho ferito Ma mo vengo là E ti spacco il culo Proprio a me Te lo apro Ah t'ho ammazzato E chi è che mi guarda? Chi è che mi guarda? Ma chi è che guarda? Chi è il guardone che guarda? Ne Ma tu No Ancora? È possibile che io non me ne possa andare da qua? Io me ne voglio andare Ok Me ne sono andato Per curiosità Vediamo se sta qualche altra munizione Qua abbiamo due colpi Quattro colpi Qua abbiamo Da fare Delle bombette Facciamo le bombette Restiamo Facciamo prima un colpo di ghiaccio Ah no Non si può fare Non ci abbiamo i colpi Ed è un po' di tempo anche che non troviamo trappole da togliere E non troviamo il punto di salvataggio Perché non lo troviamo il punto di salvataggio? Ma si scende qua? Ah da là si va Allora l'avevo fatto bene Ah io a quello con la tromba Vediamo Eh? Cosa sta qua? Tre colpi di pistola Non mi dire che sono salito qua sopra per questo Questo è tutto Io salgo E vengo qua Dov'è il punto di salvataggio? Scendi Ho visto già un mostro Ho visto qua Sento? Aspetta Allora quello là Papà Papà gli ha fatto le bull Oh Oh no Prendi i colpi Siamo caduti nell'acqua E mo' Oh oh Dimmi che sono morto Oh merda Che è? Merda Prima mi do Io se ho bevuto Adesso mi sento come un drogato Proprio Penso un po' come era forte Che fino al giorno dopo Mi sento ancora male Ok C'è un po' come era forte C'è un po' come era forte Ah C'ho mostra Vabbè E io come passo Via 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 Risali 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 Come faccio? Forse di qua non si passa Forse di qua non si passa Devo usare i cadaveri Questa è una specie di squalo Questa è una specie di squalo Qua ce n'è un altro Che cazzo? Oh Allora scappa 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 Sali Sali Coglione È salito Bene Anzi male Perché vedo che sta già uno Che sta avvicinando No 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 Ah Questi pescioni maledetti Proprio Abbiamo capito Abbiamo capito Riunio Di condominio forse Visto che stanno così tanti palazzi La droga Oh Mi sento ancora male Da ieri sera Che ho bevuto Ho scoppato E ho fatto tutte le porcate Benissimo Allora Facciamo così No Che cazzo fa Ok Ok Io prima cosa Sono stato fortunato Dai che siamo quasi arrivati Prima di fare cazzate Sistemiamo Il problema Prima cosa Devo arrivare là sopra Salire su quella barca Hai Dai Dai Esci dall'acqua Perfetto Oh il punto di salvataggio voglio io Porca vacca Di sicuro non farò un bagno per un bel po' di tempo Ecco Sento Sento il rumore del punto di salvataggio Ma non lo vedo Ma cosa sta Beh Eh Vuote Io lo sento ma non lo vedo Aspetta non è che In teoria su quei corsi potrebbe camminare Comun C'è Punto di salvataggio Cosa è Oh madonna Oh Che ca... Oh no... Che è Che è Bisogna uccidere qualcosa Oh e dai no E perchè non mi fai camminare Porca vacca Oh no... Aiuto Qualcosa mi insegue Oh ma come cazzo dovevo fare Salgo sopra Ma è sti zombie qua Quel mostro Perchè non muoiono sti cosi di merda E ho finito tutto qua Tra poco ho finito tutti i coppi Un passeggino Un passeggino Cambio arma Mettiamo le granate giù Sì Muori dai Se ti rialzi Muori dai Oh Oh Cos'è che ha detto alla fine? Cos'è che ha detto alla fine? Boh non ho sentito Ma era una finta Che cazzo Intanto abbiamo Consumato tutte le granate Con due granate L'abbiamo fatto fuori Qua stiamo messi male Perchè abbiamo Solo il fucile a fama Con quattro colpi Ci dobbiamo concentrare di più Sul bastardo Oh ma vi rendete conto Il punto di salvataggio Che non ci sta? Che me ne faccio di questo? Devo preparare colpi Prepariamo colpi Ma cos' devo preparare? Con cinque cose Posso preparare Prepara darda E' giusto Due dardi Ma non Ma proprio perchè non ho niente Che è? Oh Oh Finalmente Questo posto fa schifo Questo posto fa schifo Che cosa opera sua? Che stanno rotti i vetri Ogni volta che torno qua Succede qualche cosa Madonna Che hanno fatto qua? Mo' Hanno sfasciato tutto Si sono divertiti Va tutto bene? Si rende conto Che nessuno mi sostituirebbe? Che significa? Il corpo mutilato ritrovato nelle fogne? Il corpo di un uomo con la scatola carne in carota e cicatrici di interventi chirurgici Recento è stato ritrovato nelle fogne di Crimson City Potrebbe trovarsi lì da alcuni mesi Il modo superante ricorda il quadro serio al chiede di Elk River Disegnare la scomparsa di Arnold Brown Ispettatore della polizia di Crimson City Qua sta tutto sfasciato Il quadro non c'è più là Però posso salvare Ok ragazzi Finalmente E terminiamo qui questo video Grazie